Alla nostra vittoria! Abbiamo inaugurato la nuova sede della coalizione, l'abbiamo fatto qui a Fano, in pieno centro, lungo il corso Matteotti, al numero 165 e l'abbiamo fatto perché questo non vuole essere solo un luogo fisico, ma vuole essere un simbolo di una coalizione unita, di un gruppo di persone che assomma qualità ed esperienza e lo facciamo perché vogliamo vincere questa sfida elettorale, vogliamo far continuare a crescere Fano, vogliamo davvero pensare al futuro. Lo slogan che abbiamo usato per questa sede, il titolo che abbiamo dato a questa sede è Il futuro abita qui perché siamo un'unica coalizione che guarda il futuro, l'unica coalizione che è in grado di pensare al futuro anche facendo scelte coraggiose, siamo una coalizione in cui abbiamo combinato anche forze eterogenee ma complementari che coprono tutti gli interessi della città di Fano. Siamo pronti alla nuova sfida, questa sede sarà aperta a tutti, a tutti quelloro che vorranno dare un contributo sarà sempre aperta e spero accogliente anche per le idee delle persone che guardano al futuro della nostra città guardano all'Afano che verrà e guardano alla qualità della vita, una città sostenibile, ricca di lavoro e anche bella che ci meritiamo. Grazie!